Il ritorno alle urne per il rinnovo dei 32 consigli comunali nel Cilento e nel Vallo di Diano sembra destinato a riservare molte sorprese sulle candidature. Ci sono sindaci uscenti che potrebbero ricandidarsi ma che per ragioni diverse potrebbero rinunciare alla corsa. Altri invece sono alle prese con la legge sulla incompatibilità. È il caso del primo cittadino di Torriorsai a Pietro D'Angelo che essendo un dirigente della comunità montana in virtù della nuova norma non potrebbe candidarsi a sindaco e consigliere comunale in nessuno dei comuni che ricadono nel territorio di competenza dell'ente montano. Il gruppo di maggioranza è alle prese in questi giorni con l'interpretazione della legge in questione. Se gli accertamenti stabiliranno che D'Angelo non può riproporsi agli elettori al suo posto potrebbe correre il consigliere uscente ed ex sindaco Giuseppi Navairo. Tra i sindaci al primo mandato che rinunciano alla candidatura c'è Francesco Pulito di Casaletto Spartano che cederà il posto al suo predecessore Giacomo Scannelli. Anche quello di Sant'Arsegno Nicola Pica sembra orientato a gettare la spugna. Solo nei prossimi giorni saprà indicare la sua scelta che comunque anche per ragioni professionali sembra orientarsi verso la rinuncia alla corsa. Indeciso anche il giovane sindaco di Rofrano, Tony Viterale, che scioglierà la riserva a breve. Non è escluso che al suo posto si riproponga il padre Giuseppe, oggi consigliere comunale e in passato sindaco. Tra i primi cittadini uscenti pronti a riproporsi agli elettori ci sono Andrea Salati di Gioicilento e Aldo Luongo di Cuccaro Vetere. Atteggiano Michele Di Candia, ormai al secondo mandato e alle prese nella scelta del suo successore, due inomi in ballo. Stesso problema da risolvere per il primo cittadino di Morigerati, Cono Delia. Anche lui in affanno nell'indicazione delle rede, come lo è d'altronde il sindaco di Sala Consilina, Gaetano Ferrari, che dopo dieci anni alla guida della città si ritrova a dover decidere a chi della maggioranza affidare la corsa senza dividere il gruppo. Impresa ardua, visto che gli aspiranti sono più di uno. Mentre ad Ascea l'amministrazione uscente sarà rappresentata da Antonio Criscuolo, che avrà in lista anche il sindaco decaduto poche settimane fa, Mario Rizzo. La lista alternativa per il momento certa sarà capeggiata da Pietro D'Angiolillo, consigliere di minoranza uscente. Intanto un gruppo di giovani sta pensando di riunirsi in un'unica compagine con a capo Egidio Criscuolo. A Torraca, comune recentemente commissariato, il sindaco uscente Ferdinando Ciamba non ha ancora scelto la riserva, ma quasi certamente sarà di nuovo in corsa per la carica di primo cittadino.